10 secondi, dai 10 secondi di timeout per avere lo 0% Nell'angolino per 10 secondi Nooo Speravo così tanto che mi camminasse davanti Ma c'è quella che ha Oddio c'è quella con NoMider, boys Andiamo subito su quella con NoMider Fa culo Escludo dalle avventure Ci ho provato, è stato tipo super mega rischi L'avrei hittata se non l'avessi sprecato la M2 così Bel dodge Mi ha feccato a destra per poi andare a sinistra Non è male questo sembra per ora Mi stanno anche facendo tutti i generatori attorno Bel dodge Non è per niente fucking male questo Nice È la prima volta che viene bloccato l'accia di qualcuno? Ah, per 10 secondi, dai Bene Discordia non si vede perché i generatori sono arancioni e gialli Credo che quello abbia discordia Ma non lo so Sembra anche quello l'infonsi che dovrebbe essere discordia questo E già i generatori che volano Io non lo voglio camperare Però Difendere sì Però a sto punto fa un culo Mi sa che a sto punto Tarneliamo quello con no matter Ancora nessun cheat Dai da un po' che non trovo cheat Però ovvio Minchia se è veloce comunque Lo ingabbio Giusto per non saperne leggerne e scrivere Piano Maidar Di solito gioco con perk particolari Per un cane avere così 10 anni è tanto? Eh sì Considera che di solito vivono sui 15-16 anni Teoria Devo ritrovare poi quello con no matter E ammazzarlo Probabilmente che non ho barbecue E quelle robe lì Fuck le scale di merda Ok Ok Siamo riusciti a tagliarle la strada Dovrebbe essere abbastanza veloce questo Adesso Come mica ne ho avuto 16 anni Ah 16 anni Vivi o il terrore Considera che una delle mie gatti La mia prima gatta che ho avuto Ha vissuto tipo 20 e passa anni Perché sono un fottio Era Era immortale quel gatto Non so come ha fatto da durare così tanto Di media sì ma Aveva tipo 23-24-25 anni Tantissimo aveva Comunque per un gatto è tanto Se non è che può fare il save L'importante è che per quanto mi riguarda Difendo questo generatore In questo momento ho generatore quasi al 100 Che è al 75 In regressione E uno appeso Lo facciamo andare second stage Perché tanto sono Due feriti E Di cui uno con no midar Quindi non si può avvicinare E al massimo Devo fare uno scambio bare Gli vediamo anche Che si stanno facendo avanti e indietro Quindi in questo momento La tattica migliore per me È camperarlo Camperare lui sull'uncino Difendere intanto il generatore Che ha una progressione tale Che Se ci stanno pochi secondi Lo finiscono Non volevo far male Mi puoi giocare freddo Con barbe che possiamo nascondere Non mi voler male Va bene Tranquillo Tranquillo Gioco tutto quello che mi ha redimato E boys Non è un problema Oggi Oggi va così Oggi Oggi mi sono preparato mentalmente Sul Sul Sull'essere Ferito Ma è redimato Mi sono distratto Giuro Un secondo Un secondo mi sono distratto Giuro Mi sono distratto Un secondo a leggere Porca vacca Allora Mi ha incapito Che vuoi fare giochetti Far perdere il tempo Però è rottorca Tipo lui non lo camperiamo Perché non ha senso 4 feriti Discord Attivo 3 feriti Andiamo a beccare Quelli feriti Ci prendiamo pure Questo hit Discordia Evocazione value Dai Pes Quello è normale In realtà Però Di solito Vogliono stare un po' Da soli Gatti Quando Sanno che è arrivato Quel momento Di chi è il compleanno Del canale Gabri Il nostro gatto Era talmente vecchio A un certo punto Che vabbè Stava quasi sempre fuori Dormiva tutto il tempo Fuori Tutto il giorno Inverno Estate Qualsiasi Orario del giorno Ed è di un gatto Normale Di 10 10 Tranquillo Tranquillo gabri Si si lascia Non può andare Però È durato comunque Un sacco Ragazzi Anche se non voglio Andarlo rosso Lo avrei comunque Allora Comunque non è Punto scambiantivo Giveaway Pagliaccio Punto scambiantivo Buon compleanno Re delle combo Bella gente che corre dritta A un certo punto Si arrendono Non vogliono neanche più Fare i Mind game Perché è in cooldown Mozart A 10 minuti di cooldown È stato appena redimmato Non si ascolta Perché sanno Che non possono più Difendersi Però non so La motivazione esatta Io pensavo Solo vuole essere Un po' più Di pace Tranquillità Tipo La fine i gatti Sono molto solitari Lo sono lasciato andare Ottimo Ho fatto copia In colla da balle Mi hanno trovato Noi la botola In questa mappa Penso che non mi stiamo Accapitando prima Ai 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 Le porte Non sono neanche Troppo lontane Ma sono veramente Brutte Ma veramente Io questa mappa Per le porte Davvero Ho un Un odio Penso Non è per quello Anche quando sono male O soffrono Perché sanno di essere Vulnerabili Ok Ok The more you know Non lo sapevo Le porte Infoscate così Sì In bosca Qualc'altro Davvero Non le riesco a vedere Capito Ci sono troppi muri Di mezzo E' un fastidio Sta mappa Io non so davvero Che l'abbia inventato Chissà dov'è Che l'ho fatto Porca troia 180 flicchi Instant Mettiamo il poppy Poppy Anche a 1 Amore Anzi Rifunda direttamente Anche i putti Agota Già di 6 Italy Trash Ezz